Oggi è il saluto del commissario a tutti nella sede della regione Emilia-Romagna. È la fine della fase 1, è già avviata la fase 2, una fase non di epidemia per fortuna, non è una fase semplice la fase 2, ma però è una fase nella quale il messaggio di grande speranza, soprattutto di ricostruzione. Come preannunciato arriva al termine il lavoro del commissario ad acta per l'emergenza coronavirus in Emilia-Romagna, Sergio Venturi. L'ex assessore alla sanità della giunta regionale ha accompagnato ogni giorno gli emiliano-romagnoli nel processo di comprensione del fenomeno epidemiologico. Comunque la consapevolezza di lasciare una fase molto più positiva e molto meno impegnativa sul piano dei servizi sanitari è certa e quindi l'augurio è quello di ricominciare con le attività tradizionali, quelle che abbiamo abbandonato per un po'. A ringraziarlo per la sua disponibilità colui che l'ha chiamato, il presidente Stefano Bonaccini. Credo che Sergio con la sua competenza, la sua affidabilità, la sua umanità sia stato un riferimento non solo per noi, ma anche per tantissimi cittadini che ogni giorno seguivano peraltro le sue dirette in cui snocciolava dati e provava anche a indicare preoccupazioni ma anche cercando di rassicurare la popolazione. Un lavoro straordinario del quale gli siamo e gli saremo grati.